I carabinieri della stazione di Marina di Camerota hanno arrestato due persone, due giovanissimi di 16 e 17 anni, accusati di tentato omicidio per aver accoltellato un 21enne durante una rissa a Marina di Camerota nei pressi del porto turistico. A portare avanti l'operazione sono stati i militari dell'arma della compagnia di Sapri guidati dal capitano Francesco Fedocci che al termine delle indagini inerenti il ferimento di un giovane 21enne di Marina di Camerota, avvenuto nella notte, hanno arrestato in fragranza di reato i due giovanissimi. Secondo quanto emerso, le due persone arrestate in concorso a loro si sono resi responsabili dell'aggressione con accoltellamento nei confronti di un giovane del posto 21enne, dopo una rissa scaturita da una lite iniziata già nei giorni precedenti per futili motivi. I carabinieri della locale stazione sono riusciti a recuperare il coltello utilizzato che è poi stato sottoposto a sequestro. I due minorenni sono stati associati presso un centro di prima accoglienza in attesa dell'udienza di convalida degli arresti. Il ferito è stato trasferito in prognosi riservata nell'ospedale di Vallo della Lucania, dove resta ancora sotto stretto controllo da parte dei medici. Ancora una volta una rissa ha sconvolto Marina di Camerota, non è la prima purtroppo di quest'estate, ancora una volta giovanissimi protagonisti con un bilancio grave, ma poteva essere una tragedia.